ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di bluff titler italia quest'oggi sarà una lezione relativamente breve e vi spiegherò la voce del menu superiore media è questa precedentemente abbiamo visto le voci file controllo edit e livelli se non l'avete ancora visto e se non sapete di cosa trattano vi consiglio di andare a vedere le video lezioni precedenti se clicchiamo sulla voce media si si apre questa tendina in cui possiamo trovare diverse voci queste voci servono esclusivamente per cambiare qualcosa in questo caso il cambiare significa un apportare delle modifiche e variare quindi qualcosa di già esistente perché dico questo e lo spiego subito possiamo vedere che il menu presenta delle voci che sono di color nero e delle voci che sono di color grigio le voci di color nero sono quelle selezionabili se infatti io vado a cliccare su cambia testo potrò cliccare il testo questo perché il mio testo è presente ma se io vado a cliccare per esempio cambia audio non avendo un audio non posso cambiarlo se avessi precedentemente caricato un audio su questo file quindi non dopo il montaggio ma direttamente sulla mia presentazione visto che c'è la possibilità su bluffer tytor di caricare un audio allora ora l'avrei potuto cambiare attenzione vi faccio anche notare che il menu media più che altro le voci per cambiare le cose si riferiscono solamente al livello selezionato ecco perché io ho un eps che è questo qua le ps è un file che si può ottenere tramite questo programma pixel angelo e magari ne tratterò più avanti ne parlerò come si fa si utilizza perché anche un eps è utile ma come vedete io ora non ho disponibile la voce cambia eps questo perché le voci di questo menu ora si rifanno solo a livello selezionato ecco perché non ho la possibilità di cambiare eps anche se è presente ma in un altro livello ed ecco perché io avendo tre scritte diverse ecco qua ho la scritta bluff la scritta title e la scritta italia una volta selezionato il livello 8 quindi il testo italia potrò solo cambiare quel testo e non tutti detto questo ovviamente come funziona il testo italia ha attenzione un font che è uguale a bluff e title solo che gli è stato dato come vedete una macchina da scrivere e una leggera inclinazione quindi non è il font che potrebbe essere il corsivo no gli è stata data una leggera inclinazione questo lo dico perché se andiamo su cambia font vediamo che il font del carattere è aria black come lo è per tutti per tutte le altre scritte sia per bluff che per title quindi diciamo che quando andiamo a fare una presentazione dobbiamo sempre anche tenere in conto e ricordarci dei vari passaggi che abbiamo utilizzato se no rischiamo di andare ad apportare delle modifiche non volute per cercare di ottenere un qualcos'altro questo lo dico perché se io ovviamente una volta selezionato il livello 8 testo italia avessi voluto scegliere un altro font credendo ovviamente che non ci fosse l'inclinazione ma che fosse di suo il font leggermente inclinato avrei commesso un errore ora vi mostro per esempio non scegliere uno qualunque ok vedete è comunque leggermente inclinato e quindi anche da qui capiamo che cambia solamente la voce che noi selezioniamo se io cambio testo e ora ve lo faccio capire meglio cambierà solo il testo non la colorazione o qualunque altro parametro che noi abbiamo toccato noi sappiamo per esempio che qui abbiamo il testo bluff più e il testo bluff cosa succede se noi andiamo a cambiare il testo bluff plus quindi il vero testo perché alla fine il livello 5 è solo il bordo che si rifà il nostro testo ma ovviamente cambierà sì il testo ma rimarranno tutte le altre cose quindi ovviamente il bordo rimarrà dello stesso colore si adatterà alla nuova parola è lo stesso e impostazioni che avevamo precedentemente sistemato per il livello 4 rimarranno uguali ora vi mostro ovviamente cambia testo se invece di bluff scrivo ciao verrà uguale giallo col bordo blu e ora ve lo mostro ecco qua abbiamo visto il cambio testo e il cambio font ma questo ha anche ad esempio uguale come la cambio trama o il cambio effetto che possono essere cambiati direttamente all'interno del programma mi spiego meglio il nostro programma essendo una titolatrice ovviamente è principalmente fatto per fare delle presentazioni con delle scritte che abbiano dei colori e delle particolarità come il colore lo spessore la trama l'effetto che sono già inclusi nel programma lo stesso non vale quando andiamo a cambiare un eps un audio o un modello 3d questo perché ve lo faccio notare se io cambio testo si apre una finestra una nuova finestra di bluffer title in cui noi possiamo andare a creare il nostro nuovo testo lo stesso se io vado a cambiare una trama si apre la finestra di bluffer title che ovviamente ci fa cambiare le trame che abbiamo sulla cartella outer space software bluffer title media texture quindi cose che ci vengono già date nel programma ma ed è per questo che ho fatto la distinzione se noi ad esempio andiamo a selezionare un file eps in questo caso livello 9 tracciato corvetta punto eps che è appunto il nome del nostro file vedremo che non è così questo perché il file eps lo abbiamo ottenuto grazie al programma bixelangelo quindi non è una cosa che si può ottenere direttamente con bluffer title anche se si può integrare e se si può benissimo cambiare ma quando noi ora andremo ad aprire la nostra finestra notiamo come ci si sia aperta la finestra su cui noi avevamo appunto il nostro file eps in questo caso corvetta ovviamente io dopo si può andare a scegliere nel computer i vari rimandi delle cartelle per trovare tutti i file io qua ho caricato un altro ps quindi ovviamente vedo e comunque c'è scritto punto ps che lo posso cambiare ma attenzione questa non è più una finestra che ci rimanda interna del programma che ci rimanda a ciò che già il programma predisponeva per la personalizzazione della nostra sigla della nostra presentazione ma è un qualcosa di esterno infatti io ho solo due file eps perché ne ho creati solo due quindi se voi avete caricato un eps e volete cambiarlo ovviamente ne dovete avere un altro che avete creato voi o qualcun altro ma non viene dato già con il programma comunque la stessa cosa e varrà per tutte le altre voci ecco che il nostro stracciato che si adattava bene alla scritta è stato cambiato in appunto prova base scritta che in questo caso era un anello tutto il resto è simile cambia texture cambia effetto giustamente cambia trama e cambia effetto sono sempre attivati anche se come vedete voi non avete trama effetti e se notate vi riportano sulla stessa finestra quindi anche qua sinceramente si potrebbe evitare il doppio pulsante e farne uno simile perché tanto se rimando è uno comunque dicevo sono sempre attivati perché anche se non ci sono noi li possiamo aggiungere in qualunque momento ovviamente quando possiamo applicarli a qualcosa come in questo caso un file ets o una scritta ecco qua che ora vi mostrerò il cambio di trama quindi il cambio di texture sia su un livello di testo che su un livello immagine ora abbiamo selezionato il livello testo quindi cambierò la trama della scritta bluff title ora infatti non ha nessuna trama io posso andare su media faccio cambio trama clicco su trama texture e posso ad esempio scegliere bricks e come vedete viene se prima la scritta non aveva di suo nessuna trama invece questa immagine essendo che la selezioniamo appunto dalla la craterla interna del programma è già un'immagine infatti è l'immagine brush it metal punto png lo stesso se noi vogliamo cambiare trama andiamo e ad esempio scegliamo qualcosa che si veda eccolo qua come vedete cambia lo stesso per cambiare l'effetto io ad esempio sulla mia scritta non ho presente nessun effetto faccio cambia effetto posso aggiungere per esempio un effetto come questo qua che è molto utile soprattutto per i testi ecco quindi abbiamo visto come poter cambiare come poter apportare delle modifiche che poi ci saranno utili soprattutto quando noi abbiamo già lavorato sulla nostra presentazione ma appunto vogliamo cambiare qualcosa credo che per questo video sia tutto spero di essere stato abbastanza chiaro se c'è qualcosa che non avete capito scrivetemelo pure nei commenti e nel prossimo video vedremo la voce del menu preset ricordatevi di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti alla prossima vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti